Far arrivare qui le persone a caso non ha senso, non porta altro che lo scenario che abbiamo visto negli ultimi anni, ma una immigrazione coordinata sulla base delle richieste che le associazioni di categoria possono mettere sul piatto al governo e dire quanti e quali sono le figure che abbiamo bisogno nelle nostre imprese, questo sì sarebbe un coordinamento auspicabile e possibile. Governare i flussi migratori per rispondere alla carenza di mano d'opera che c'è anche nel terziario, nei giorni del braccio di ferro tra Italia e Francia le imprese chiedono un approccio pratico, nel Trevigiano mancano lavoratori principalmente nel turismo. Ma è diffuso anche come ricerca di commessi, come ricerca di assistenti nelle imprese dei servizi, alle persone. Esigenza di profili che rivela come il settore sia pure alle prese con gli effetti di inflazione e caroenergia regga l'urto, al di là di ogni previsione. Già per le festività di Natale, vi compreso poi la fine di questo mese, quando ci sarà la settimana del Black Friday, che include poi un pochettino tutto il mese, è comunque già un momento in cui la fiducia riprende e c'è un'attesa di clima comunque discreto per gli acquisti di Natale. Attenzione, dice Sartorato, le imprese del terziario Trevigiano a rischio chiusura, causa bollette shock, restano 1.500 come rilevato dall'ultima analisi congiunturale, ma tutto dipenderà da quanto perdureranno i rincari. Le analisti comunque prevedono a gennaio una caduta del prezzo del gas e delle materie prime legate anche all'energia elettrica e questo è sicuramente un dato che può incoraggiare la nostra prospettiva per il trimestre del prossimo anno.